Intense e proficue sono state le attività targate 2015 degli uomini della Capitaneria di Porto di Gela coordinati dal comandante Pietro Carosia. Un anno che ha visto i militari impegnati su diversi fronti e raggiungere molti obiettivi come spiega ai nostri microfoni lo stesso comandante. 2015 ormai è passato, ne approfitto intanto per fare i miei migliori auguri a tutti i cittadini di Gela. Abbiamo messo in campo noi della Capitaneria di Porto diversi progetti e in questi progetti abbiamo avuto sempre vicino molte istituzioni ma in particolar modo devo ringraziare sentitamente la Procura della Repubblica di Gela e in particolar modo il Procuratore Capo, la Dottoressa Lucia Lotti e altrettanto devo dire per Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, la Dottoressa Cucinotta il mio primo obiettivo fin dal primo momento del mio insediamento è stato quello del Porto Rifugio. Porto Rifugio che sta vedendo finalmente una nuova luce. Ormai sono stati avviati tutti gli iter per quanto riguarda la caratterizzazione e il mio intendimento e grandissima speranza è che prima dell'estate i cittadini di Gela possano vedere finalmente iniziare i lavori nel nostro bel Porto Rifugio. Un altro traguardo che mi ero prefissato era quello di far uscire le Camere Coq sempre dal nostro Porto Rifugio e entro giugno scadrà il termine ultimo perché debbano uscire dal Porto e quindi anche le Camere Coq dovrebbero lasciare la città di Gela. Un altro obiettivo importante è che mi sono prefisso riavviare la possibilità di far riprendere i lavori per lo smantellamento di tutti i rifiuti ferrosi che ci sono sulla diga forranea e questo permetterà anche a ditte autorizzate e quindi a operai, a famiglie di poter ritornare a percepire uno stipendio decente.